ciao a tutti ragazzi sono te e benvenuti in questo nuovo video reaction sono capito a fare la reaction al secondo e l'ultimo episodio di LAMLIFE allora non ho trovato altri episodi quindi siamo appunto a due episodi abbiamo visto comunque sia dei video da questo quale 5 minuti ancora era da 3 minuti quindi 8 minuti sembra un po' strana fa una miniserie da 8 minuti comunque sia più trailer quindi che dovevo un minuto quindi 9 minuti 10 minuti un po' strano comunque se si troverò altri episodi per il pubblico cosa voglio fare questo e via vediamo che succede ok ok qui abbiamo già visto la ruota questa scena non l'abbiamo vista LAMLIFE ci sta devo dire che ci sta molto come grafica i colori sono devo dire ottimi guardate anche la pioggia ci sta sappiamo tutti che questi personaggi sono dei giocattoli come Budi e compagnia belle insomma infatti vedete che prendono appunto vita quando hanno l'occasione che non c'è nessuno e vivono le loro avventure infatti da giocattoli veramente molto 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 carina l'idea questa questa grande idea questa idea anziché VULDI è stato doppiata la grande fabrizio frizzi che purtroppo ora è venuto a mancare quindi sarà doppiata da una altra persona che so chiama me la ricorda ok qui c'era il ragazzo che giocava con questi due i suoi giocattoli era avvicinato appunto Budi la ecco qua vedete Budi la sua principessa non so come si chiama si sta si sta devo dire è molto molto bello come come serie si sta guardate è molto molto bello anche i personaggi questi sono animali o che quasi stiamo ancora ruota scusate che ci sono c'è casino fuori ok perfetto si si sta ci sta come bello che c'è molto grafica spero che ci sono altri episodi perché america veramente tanto questa serie qui abbiamo ancora le stesse immagini basta perché la faccia delle stesse immagini un momento copertino non abbiamo ancora uscito non fosse riuscito e non ci ho fatto caso la ruota ma basta la ruota basta la ruota che mi fa la nostalgia ci sta ci sta ci sta andando in bocca ci sta andando in bocca ci sta andando in bocca capitano ok ho usato il fatto con un altaleno insomma un trampolino ok qui abbiamo visto basta la ruota che non era che non era ancora un passo ok tantissimo hai finito allora cinque mi ha visto veramente tantissime cose spero appunto che escono altri episodi di questa serie perché mi sta piacendo tanto non so se si è un figlio ho visto anche che parlavano di un film su questo capolavoro io spero che comunque sia questo mini episodio mi sia piaciuto ricorda che questo qui è la serie che uscirà la domenica abbiamo 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 attualmente finita abbiamo abbiamo attualmente abbiamo attualmente abbiamo attualmente abbiamo attualmente abbiamo attualmente